Non si arrendono le due mamme di Anghiari. Dopo aver tentato anche la strada dell'appello al governo Meloni, adesso presentano un ricorso al Tribunale dei Minori di Firenze. La coppia, unita civilmente a novembre, si era infatti vista respingere in prima battuta il ricorso che chiedeva allo Stato il riconoscimento della doppia genitorialità come madri per i loro due gemellini nati a giugno all'ospedale San Donato di Arezzo grazie alla fecondazione assistita in Spagna. La madre genetica dei bimbi nati dai suoi ovociti fecondati in vitro e trasferiti nell'utero della compagna non è mai però stata riconosciuta come tale. Dopo il no del Tribunale di Arezzo, la coppia si era anche rivolta con una lettera ai Presidenti di Camera e Senato chiedendo un'azione legislativa per sanare delle criticità che si creano in questo delicato ambito. Infine la decisione di depositare il ricorso per l'adozione in casi particolari al Tribunale dei Minori. Il legale Ramona Morri ha portato così la richiesta a Firenze. Nel ricorso viene sottolineato il paradosso di questa situazione che si è creata a causa di un vuoto normativo. Nonostante il proprio stato di madre genetica, si legge, la ricorrente è ad oggi priva di qualsivoglia posizione stato giuridico nei confronti dei figli che sono suoi. Allo stesso tempo viene posta l'attenzione del Tribunale che i due bambini risultano privi di uno dei due genitori, paradossalmente proprio quello senza il quale nemmeno sarebbero potuti nascere. Adesso il Tribunale dei Minori dovrà fissare un'udienza in cui le due donne potrebbero essere sentite.